Il vasto incendio che ha interessato la zona dell'Accese martedì 25 luglio scorso ha particolarmente colpito abitazioni e aziende. Ad Asci San Filippo, una delle maggiori imprese, sita in via Alfredo Agosta, è stata interessata dal fuoco e ha costretto il proprietario alla chiusura dello stabilimento e alla parziale sospensione della produzione, creando dei disagi all'intero indotto. La comunità parocchiale di Asci San Filippo, per esprimere vicinanza all'imprenditore, celebrerà una santa messa, oggi lunedì 7 agosto alle ore 19, all'esterno della fabbrica. Per l'occasione saranno portati sul luogo il simulacro e le reliquie di Sant'Antonio da Padova, protettore del quartiere Reitana, dove ricadono l'azienda e la chiesetta dedicata al santo. Don Roberto Strano, paroco della Basilica San Filippo d'Agira, afferma, c'è chi ha perso sia la casa che il lavoro e noi vogliamo portare speranza. Nel segno della fraternità desideriamo stare vicini alle famiglie e ai lavoratori in difficoltà che hanno subito danni e vogliamo condividere l'amore per la verità e la giustizia. Mettiamo in atto le misure di prevenzione che sono strumenti di civiltà e invitiamo alla conversione coloro che commettono reati contro l'umanità. Custodiamo la nostra casa comune.